salve ogni immagine video ha una o più sorgenti di luce dette anche illuminanti c'è sempre una luce principale detta dominante tutti gli illuminanti anche il sole fra questi hanno una propria temperatura di colore da questa dipende come noi percepiamo i colori della scena infatti ogni illuminante irradia differenti lunghezze d'onda caratterizzando il relativo colore percepito e il modo in cui vediamo i colori della scena in pratica ogni regolazione di colore che noi facciamo altera la temperatura di colore della luce della scena uno degli illuminanti di riferimento standardizzato dalla cie è il di 65 corrispondente alla temperatura di colore di 6500 kelvin considerata la luce a mezzogiorno in una giornata serena ma esistono anche di 93 di 60 di 50 eccetera si parla di bilanciamento del bianco quando la macchina da presa è impostata con una temperatura colore coincidente con quella dell'illuminante principale un file video ha una componente luma e una componente croma si dice che il segnale è y primo cbcr analogo al modello di colore uv non all'inglese la componente croma è caratterizzata dalla tonalità e dalla saturazione la tonalità è semplicemente la lunghezza d'onda e determina il colore la saturazione e l'intensità di detto colore allo 0 per cento di saturazione se un'immagine monocromatica in toni di grigio al 100 per cento sia la massima vividezza del colore nel sistema additivo i tre colori primari r g e b si miscelano fra loro creando i colori secondari ciano magenta e giallo il colore grigio è formato dagli stessi identici valori sui tre canali rgb come si può vedere facilmente in rgb parade per esempio rgb parade è il monitor usato per i colori nello scorso video avevamo visto wave form l'analogo nel caso dei colori si chiama rgb parade invece in una immagine colorata i tre canali presentano valori diversi ci sono anche i cosiddetti colori complementari che si trovano agli estremi opposti sul diametro della ruota dei colori hanno la particolarità di sommarsi producendo una completa desaturazione cioè annullandosi fra di loro rgb è un modello di colore che specifica matematicamente la rappresentazione dei colori srgb per esempio è uno spazio colore che racchiude un intervallo ben preciso detto gamut fra tutti i possibili colori del modello rgb ci sono altri modelli di colore e tanti altri spazi colore tradizionalmente nella color correction si usano i modelli colore rgb o y primo cbcr o hsl ma gestire in modo trasparente all'utente ci pensa se nel r noi possiamo usare qualunque tipo di video e di tool e se serve ci pensa il programma a convertirlo per esempio rgb parade lavora su un segnale rgb ma accetta tranquillamente sorgente uv o meglio y primo cbcr gestendole in proprio senza modificare il segnale originale in ambito video gli spazi colori più usati sono rec 709 dc ip3 e rec 2020 quest'ultimo è talmente vasto che ancora non esistono monitor che lo sopportano totalmente quindi nei monitor consumer è facile trovare le specifiche 100 per cento srgb 99 per cento adobe rgb e 75 per cento profoso che significa che possono riprodurre l'intero gamut di srgb il 99 per cento dei colori di adobe rgb e solo il 75 per cento dei colori profoso che poi questi colori siano riprodotti fedelmente è questione di calibrazione questi sono spazi colori usati in ambito fotografico nel video corrispondono all'incirca non sono proprio uguali agli spazi colore rec 709 analogo all srgb dc ip3 abbastanza analogo all'adobe rgb e rec 2020 abbastanza simile al profoto per analizzare il bilanciamento dei colori di un'immagine si usa rgb parade come si è detto che è simile al wave form ma scisso nei tre canali rgb si usa anche il vector scope utile per visualizzare tonalità e saturazione ovviamente non manca l'istogramma in rgb parade vediamo facilmente se un canale a livelli diversi rispetto agli altri con l'aiuto del click compare anche una barra e i precisi valori numerici cosicché siano facilitate le comparazioni fra i canali un'immagine completamente neutra agli esatti grafici nei tre canali e corrisponde a un'immagine grigia cioè monocromatica piccole differenze introducono i colori che possano risultare più o meno sbilanciati per esempio riprendere una modella illuminata da lampade al tungsteno ma con una videocamera tarata per la luce diurna porta ad un risultato molto caldo giallo dorato in rgb parade allora vediamo la maggiore estensione del grafio del rosso rispetto agli altri due la parte destra dell'immagine riporta invece colori correttamente bilanciati così che possiamo fare un paragone il vector scope viene usato per vedere la distribuzione dei colori e delle saturazioni praticamente riporta la ruota dei colori sovrapponendoci delle griglie di misura e i pixel della nostra immagine cliccando con il mouse compare una linea che rappresenta l'angolo sulla ruota colore e quindi la tonalità compare anche un cerchio che rappresenta il livello di saturazione zero saturazione al centro e abbiamo un'immagine bianco e nero e massima saturazione sulla circonferenza esterna al 100 per cento inoltre compaiono come al solito anche valori numerici precisi nel vector scope è facile vedere il bilanciamento globale dell'immagine perché si creano bracci e zone estese in una direzione cioè la tonalità dipendente dall'angolo del braccio con il relativo valore di saturazione il raggio del cerchio il terzo strumento per monitorare i canali del colore è l'istogramma bezier permette di vedere separatamente i canali purtroppo sinerella gg non ha l'ulteriore opzione della vista unitaria di tutte e tre canali insieme il suo uso è lo stesso visto nel video precedente per il canale master inoltre permette una rosa regolazione dei colori tramite triangolini per intervenire sulla regolazione dei colori primari si può usare il filtro bilanciamento colore in questo video ci occupiamo solo di color correction primaria cioè riferita al frame nella sua globalità per questo scopo bilanciamento colore è facile da usare comodo e piuttosto potente bisogna però essere molto precisi e procedere per piccole variazioni perché l'effetto è consistente permette inoltre anche il bilanciamento del bianco in automatico ma non è mai una buona scelta questo plugin si basa sulla caratteristica dei colori complementari di annullarsi se sommati nella stessa proporzione si capisce allora che è facile annullare una dominante di colore color cast in inglese visibile in rgb parade o ancor meglio in vectoscope semplicemente aumentando il suo colore complementare fino all'annullamento della dominante un altro uso può essere quello di sbilanciare volutamente il nostro video per renderlo più caldo o più freddo in analogia al video precedente dove il filtro brightness contrast veniva usato per fare la parte dello strumento master offset così questo plugin viene usato come color offset potendo oltretutto scegliere se agire su un singolo canale oppure contemporaneamente su tutti e tre come il suo analogo del luma viene usato per preparare un file log alla successiva normalizzazione cosa che non verrà affrontata in questo video uno strumento migliore è color 3 way usando le ruote di colore invece degli slider come avevamo visto nel video precedente questo plugin è molto più preciso e permette regolazioni più fini rispetto agli sliders di bilanciamento colore si può regolare in modo approssimato il colore cliccando e trascinando il mouse nella zona interessata e poi lavorare di fino usando i tasti freccia della tastiera in modo da avanzare con passi di 0,001 di variazione davvero preciso non credete ma il vantaggio principale è comunque poter agire separatamente sulle tre zone importanti dell'immagine le ombre i mezzi toni e le alte luci ovviamente è fondamentale eseguire le regolazioni monitorizzando costantemente con rgb parede e il vectoscope è solo guardando questi che possiamo adattare le modifiche verso un vero e corretto bilanciamento un concetto importante da capire che i canali rgb che andiamo a modificare si influenzano reciprocamente e non si devono quindi considerare separati generalmente aumentando il valore di uno si abbassano gli altri due aumentandone due si abbassa di parecchio il rimanente non si possono alzare tutte e tre contemporaneamente perché si avrebbe un grigio con le tre componenti rgb uguali insomma si può verificare questo comportamento osservando come varia rgb parede mentre facciamo le regolazioni altro concetto importante è capire che le tre zone di intervento ombre mezzi toni e alte luci sono basate sui loro valori di luma le zone delle ombre non sono quelle coi colori scuri bensì quelle con valori di luma piccoli nella parte bassa del wave form ovvio il risultato siano colori scuri in quelle zone ma è la conseguenza dei relativi valori di luminosità e per questo che si fa prima la correzione del contrasto luma e solo dopo la correzione dei colori anche la saturazione influenzata dal bilanciamento dei colori quindi spesso succederà di dover intervenire sulla saturazione per riportarla a livelli congeniali nei software di grading professionale esiste anche una quarta ruota colore cioè il color offset che influisce sulle tre zone di un canale contemporaneamente estendendo o contraendo il canale nella sua totalità sinelera non ha questa funzione dentro color three way ma è presente nel plugin color balance come abbiamo già detto prima nel video precedente avevamo accennato alla differenza fra lift gamma e gain in confronto a ombre mezzi toni alte luci il primo strumento aveva zone abbastanza separate ma non del tutto comunque il secondo aveva una certa sovrapposizione dei confini che rendeva le regolazioni più sfumate piacevoli insomma variando una ruota colore si variano leggermente anche quelle vicino nel bilanciamento colore si usano solo ombre mezzi toni alte luci quindi con le sovrapposizioni che influenzano anche le altre ruote colore bisogna tenerne conto per controllare il procedere del bilanciamento per esempio se si influisce troppo su zone che avevamo già sistemato non dobbiamo farci scrupoli a ritornarci sopra ogni volta che c'è bisogno i tempi si allungano ma il risultato ricompensa del lavoro in più vediamo un esempio concreto di bilanciamento del colore per esempio la neutralizzazione di un'immagine till e orange ho dato a questo video una forte impronta till e orange per mimare film e serie tv americane ma adesso mi sono stufato e voglio riportare il filmato il più vicino possibile alle condizioni originarie da rgb parade si vede il blu e il verde sono abbastanza allineati mentre il rosso è molto più forte in tutti gli ambiti alte luci mezzi toni e ombre addirittura risulta clippato questo è sempre un problema perché non si possono recuperare dei dati perduti al limite possiamo mitigare il problema il vecto scope mostra anch'esso una forte squilibrio verso l'arancio si comincia con le ombre che sono blu astre spostandoci leggermente in direzione del giallo rosso l'entità dello spostamento è determinata dal risultato su parede e vecto scope poi regoliamo le alte luci con l'unico intento di abbassare l'intensità del rosso infine lavoriamo sui mezzi toni per riuscire ad avvicinare i grafici di tutte e tre canali come si vede dal monitor ci si ferma dopo una regolazione più marcata delle precedenti in direzione magenta blu la direzione da prenderci è stata suggerita dal vecto scope sempre da quest'ultimo vediamo la troppa saturazione su tutte le tre zone specialmente sulle alte luci quindi si riduce il valore agendo su relativi slider il risultato finale è soddisfacente fate la prova di fare questa correzione senza l'aiuto dei monitor basandovi solo sui vostri occhi e vedrete è tutto risultato risulterà più difficile lungo e con un risultato peggiore ripeto la sequenza concettuale alla base di ogni bilanciamento dei colori si regola il contrasto come visto nel video precedente si studia poi sul parede quali interventi dobbiamo fare sulle tre zone si decide come intervenire in base al vecto scope per togliere la dominante di un colore se va verso il colore complementare insomma poi si quantifiano le correzioni guardando i due monitor e ci si ferma quando si raggiunge un buon equilibrio se c'è bisogno si modifia la saturazione nelle zone che ne hanno bisogno e ricordatevi che in ogni fase si può sempre ritornare sui propri passi per ulteriori ritocchi passiamo ora all'altro potente strumento di correzione colore le curve si possono usare tre curve separate per i tre canali rgb questo lo differenzia da color 3 way che invece applica le modifiche all'insieme dell'immagine inoltre immettendo più punti di controllo riusciamo a restringere le zone da modificare quanto si vuole possiamo creare morbide sfumature lungo la curva oppure aumentare la pendenza in modo più netto questo si traduce in un grosso vantaggio se dobbiamo bilanciare solo una piccola zona del frame cercando di mantenere inalterato il resto insomma siamo a confini con la correzione secondaria per esempio si possono introdurre due nodi ai confini ombre mezzi toni e mezzi toni alte luci in modo da mantenere fisse le zone dell'ombra delle alte luci ora si può intervenire su mezzi toni con tutti i punti di controllo che ci servono per ottenere il risultato cercato ovviamente la modifica va effettuata controllando sempre su rgb parede e sul vector scope fermandoci quando raggiungiamo la giusta regolazione se nel parede abbiamo un picco ad una certa altezza questa corrisponde perfettamente all'ascissa x della curva dell'istogramma vi dovreste ricordare dal video precedente che l'altezza della waveform nel nostro caso parede corrisponde alla coordinata orizzontale cioè all'asse x sull'istogramma curva quindi introducendo un nodo proprio in questo punto e alzandolo o abbassandolo lungo l'asse y vedremo sul monitor che il picco rispondente si alzerà o abbasserà conseguentemente questo è un uso davvero sofisticato e anche complesso da padroneggiare ma con l'esperienza assicura un controllo molto preciso sul risultato che vogliamo ottenere facciamo un esempio si vede dalla parede che i picchi del verde e del blu sono leggermente più alti di quelli del rosso precisamente il valore di 0,993 contro il rosso ea 0968 allora basta andare sulla curva del rosso identificare il valore 0968 sull'asse delle x e alzarlo fino a 0993 nell'asse delle y per raggiungere il bilanciamento desiderato ovviamente dobbiamo prima bloccare il resto della curva con un nodo appena precedente e poi usare un secondo nodo per la nostra modifica inserendo i numeri si procede velocemente e con la massima precisione ah se pensate avrei dovuto fare un esempio più evidente magari un intervallo molto più grosso sappiate l'ho fatto apposta per sottolineare che piccoli aggiustamenti sono importanti come pure la precisione con cui si eseguono su youtube forse non si nota la differenza ma sul nostro master di alta qualità si vede come qual è meglio usare fra color 3 way e o le curve il primo è certamente più veloce perché le curve potrebbe aver bisogno di essere regolate una per una nei tre canali perdendo più tempo quindi però se si necessita di correzioni su un solo canale potrebbero essere più veloci le curve di sicuro le curve sono più precise ma quando non c'è bisogno di estrema precisione color 3 way potrebbe dare un risultato più morbido e piacevole da vedere se poi uno usa un pannello di controllo allora lavorare con le tre trackball diventa davvero comodo da non trascurare poi è lo strumento bilanciamento colori questa un'opzione che calcola il valore globale del luma e lo blocca mantenendolo fisso quando poi andiamo a fare un aumento per esempio del canale rosso vedremo gli altri analisi abbassano in modo da mantenere costante la luminosità globale può risultare comodo in certi casi resta da parlare del controllo della saturazione cioè l'intensità la purezza di un colore come abbiamo visto modificare tonalità e contrasto può portare ad un'alterazione del livello di saturazione quindi occorre ripristinare la situazione iniziale oppure possiamo intervenire di nostra volontà ricercando un certo tipo di risultato per esempio per rispettare i parametri legali o per effetti particolari anche la saturazione come sempre nella color correction si affida ad un monitor di controllo il vector scope tal strumento mostra la saturazione dell'intera immagine e mostra anche i valori per specifiche tonalità usando il raggio che indica l'angolo e cioè il colore il modo più comodo e veloce di intervenire sulla saturazione insieme le RGG e usare color 3 way che offre il vantaggio di regolare separatamente le tre zone per esempio si può togliere saturazione alle ombre per renderle più nere profonde dando l'illusione di un maggior contrasto oppure si può togliere saturazione alle alte luci per eliminare una dominante di colore fastidiosa anche in questo caso si aumenta l'illusione di contrasto perché si raggiunge un bianco più puro o ancora manipolare la saturazione serve a diminuire la visibilità del rumore di colore o di altri artefatti visivi l'utilità di intervenire sulla saturazione molto varia e non solo di natura estetica c'è un altro concetto importante collegato alla saturazione la colorfulness o ricchezza di colore o pulicromia un'immagine con livello di saturazione costante mostra una diversa vividezza di colore se la ripresa è fatta in condizioni di maggiore o minore illuminazione in pratica con più luce i colori rendono meglio viene chiamato effetto ant attenzione però siamo in fase di ripresa del filmato non in post produzione durante il grading può influire se non abbiamo il monitor calibrato bene cercando una buona impostazione della luminosità dello schermo un monitor troppo luminoso ci ingannerà con l'effetto ant facendoci fare correzioni imprecise bisogna anche tener conto che un'espansione del contrasto durante il grading si comporta in modo similare all'effetto ant donando vividezza colori lo possiamo vedere facilmente dal vector scope il massimo effetto si ottiene lavorando in rgb mentre modificando il contrasto del solo canale y primo non solo non aumenta la policromia ma anzi diminuisce insomma in y primo cbcr la saturazione aumenta ma la ricchezza di colori diminuisce mentre in rgb aumenta sia la saturazione che la colorfulness dobbiamo essere consapevoli di questo comportamento altra influenza sulla policromia è dovuta alla grandezza del particolare colorato che viene inquadrato maggiore dimensione all'interno del frame implica maggiore policromia inoltre conta la dimensione e la tecnologia del monitor che utilizziamo ma su questo possiamo fare ben poco c'è un ultimo concetto importante riguardo alla color correction il contrasto di colore tutta la visione umana si basa sul confronto fra luci ombre o fra colori cioè proprio su un contrasto john hitten nel suo fondamentale art del colore cita otto tipi di contrasto di colore van yurkman nel suo libro fa gli esempi di sei di essi particolarmente importanti nella color correction perché permette di mettere il risalto o sfumare al contrario la figura rispetto allo sfondo mi dispiace io non ne parlerò sia per non allungare troppo il video ma anche perché il contrasto fra figura e sfondo è alla base di tutti questi video e ne viene accennato continuamente vale sempre il consiglio fondamentale di leggere il libro di van yurkman per approfondire chiarire e vedere molti esempi istruttivi bene siamo arrivati alla fine della color correction primaria i prossimi video riguarderanno quella secondaria che�vano telli una fine